Le grandi innovazioni strutturali, tecnologiche e sul fronte delle motorizzazioni che, oggi, dominano il mercato delle auto vedono alcune case automobilistiche svettare, come la O. Le grandi innovazioni strutturali, tecnologiche e sul fronte delle motorizzazioni che, oggi, dominano il mercato delle auto vedono alcune case automobilistiche svettare, come la O. le grandi innovazioni strutturali, tecnologi, lo sviluppo della tecnologia come pilastro e vera architrave di un concetto innovativo di fare auto, un bda, da tempo, ha tracciato un sentiero virtuoso in tal senso, e la Z, lo sviluppo della, la ZRV è un tripudio della tecnologia e, si sa, essendo questo un timbro evidentemente fondante della cultura e della industria nipponica non c'è da aspettarsi qualcosa di, la ZRV è un tripudio, ma c'è, semmai, qualcosa di, un SUV ibrido, un gioiello di agilità e destrezza alla guida, e ancor di più un veicolo dai consumi parecchio ba, interessanti alcuni dettagli specifici non solo dal punto di vista tecnologico ma appunto anche sui motori e sulla batteria, interessanti alcuni dettagli specifici non solo dal punto di vista tecnologico ma appunto anche sui motori e sulla batteria, l'alto livello high-tech, è naturale, si prende la copertina in questa Honda ZRV, un veicolo ibrido che si sposa alla perfezione con la natura da SUV e la qualità di conduzione, perfetta la tenuta di strada, questo veicolo è adatto alle famiglie e non solo, abitabile all'ennesima potenza all'interno, con spazio ampio per 4 e 5 persone, e c'è perfetta la tenuta di strada, ad esempio è perfetto lo schermo touch da 9 pollici al centro, con una tecnologia mista tra l'analogico e la modalità equilibrata, confortevole, rende piacevoli gli spostamenti e si guida con leggerezza La sua qualità di tenuta strada, in quanto ibrida, esalta la dinamicità I consumi su strada, dopo le analisi fatte tramite test, sono stati valutati sui 6,4 litri ogni 100 km, per un livello di 15,6 km, insomma, un ottimo livello per la categoria Grazie